La politica italiana non smette mai di sorprenderci e gli ultimi sviluppi sono davvero esplosivi. Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia Meloni, è finita sotto indagine e le reazioni non si sono fatte attendere. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, non ha perso l'occasione per esprimere il suo sdegno dichiarandosi vittima di un comportamento ingiusto e giustizialista da parte della stessa Meloni. Ma cosa sta succedendo realmente? Quali sono le accuse e, soprattutto, come queste tensioni potrebbero influenzare il panorama politico italiano? Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che sta facendo tremare i palazzi del potere e come le dichiarazioni di Renzi potrebbero cambiare le carte in tavola. Ma prima, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perderti nessun aggiornamento su questa storia incredibile. La notizia dell'indagine su Arianna Meloni ha scosso il mondo politico italiano. Sebbene i dettagli delle accuse siano ancora in fase di definizione, questa vicenda ha già scatenato una tempesta mediatica. Arianna Meloni, figura di spicco nel Partito Fratelli d'Italia e sorella della Premier, è al centro di una serie di indagini che potrebbero avere ripercussioni significative sulla sua carriera politica e su quella della sorella. Matteo Renzi, che non è nuovo a scontri politici di alto livello, ha subito colto l'occasione per attaccare Giorgia Meloni. In una recente dichiarazione, Renzi ha definito il comportamento della Premier come «vergognoso e giustizialista», sottolineando come, in passato, sia stato vittima di un trattamento simile. Secondo Renzi, la Meloni avrebbe applicato un doppio standard, utilizzando la giustizia come arma politica contro i suoi avversari, ma mostrando un approccio completamente diverso quando si tratta della sua famiglia. Queste affermazioni di Renzi aprono un dibattito importante. È giusto che i politici siano sottoposti a uno scrutinio più rigoroso rispetto ai cittadini comuni? E cosa significa davvero essere giustizialisti in un contesto politico così complesso? Cosa ne pensate? Renzi ha ragione a sentirsi vittima di un sistema che lui stesso definisce «vergognoso» oppure è semplicemente una mossa politica per guadagnare consensi? Lasciate la vostra opinione nei commenti qui sotto. Se questo video ti sta aiutando a capire meglio le dinamiche della politica italiana, lascia un like e iscriviti al canale. Supportare il nostro lavoro significa sostenere una voce libera che non ha paura di raccontare ciò che in tv non viene detto. Questa storia è tutt'altro che conclusa e il suo sviluppo potrebbe riservare sorprese inaspettate. Giorgia Meloni riuscirà a gestire questa crisi familiare e politica e quali saranno le prossime mosse di Matteo Renzi? Restate connessi per scoprire come evolverà questa vicenda.